E' bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Joker94Street e in questo nuovo video andremo a vedere come avere Tandarus, Tornadus e Landarus in forma totem. Come potete vedere ragazzi, io ce li ho già in forma totem, ma vi spiegherò tutto il procedimento. Vedete ragazzi, qua c'è Tornadus forma totem e Landarus forma totem. Perfetto. Andate a ciclanipoli E andate da questa signora ragazzi, ragazzi scusate. E vi diciamo, vedi, hai già provato a usare lo specchio di tridato, però voi se avete un Tandarus o un Landarus o un Tornadus in squadra vi darà lo specchio. Questo specchio ragazzi. Veri specchio ragazzi. Come potete vedere se io lo vado a utilizzare su il mio Tornadus, come potete vedere ragazzi torna in forma normale. Stessa cosa per Landarus. E quindi ragazzi, se lo riutilizzo me li rimetto in forma totem, come potete vedere ragazzi. Come potete vedere ragazzi. Ah ragazzi, vi devo dire anche una cosa in più molto semplice. Qui ragazzi, con gli scambi, praticamente, c'è sarà un vecchietto che vi darà, per le poche miglia che si fanno con gli scambi, dei premi. C'è anche la caramella Lara ragazzi, la fantomatica caramella Lara. Io in questo caso ne posso prendere 10, perché ho 5149. Voi dite, come si fanno le poche miglia? Ma è molto semplice ragazzi, facendo gli scambi. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Dal vostro Joker94 Street è tutto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!